C'è un sapone tutto nuovo, è il sapone nel flacone. Super Soap! Sì, basta con le saponette viscide e sporche. Oggi c'è Super Soap, sapone liquido cremoso. Tu lo premi, c'è una dose, tanta schiuma delicata. Super Soap! Super Soap, ti dà ad ogni dose il piacere di una schiuma cremosa, delicata. È cremoso sulla pelle, è cremoso e profumato. Super Soap! Super Soap, il sapone liquido cremoso. Super Soap!